Ancora più bello appare il santuario della Madonna del Castello Portasanta per l'anno giubilare proclamato da Papa Francesco sul tema della misericordia. L'importante appuntamento annunciato da Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocese di Cassano, si terrà domenica 20 dicembre alle ore 18. Un'occasione anche per far sentire la nostra vicinanza alla Vergine dagli occhi grandi che dal colle su cui è adagiato il santuario veglia su Castrovillari. Don Carmine, cosa rappresenta? Io penso che è un avvenimento abbastanza interessante e storico direi, anzi ne approfitto di queste interviste per dare veramente il ringraziamento al nostro vescovo, che è un vescovo mariano il quale ha già preso ben fuori il santuario, quindi a differenza degli altri anni, l'altro anno giubilare ha scelto proprio il santuario di Castrovillari, non perché è disastrato, ma perché è un punto di riferimento a prescindere dalla frana e quindi rappresenta che cosa? Un momento di grazia perché Castrovillari d'intorni, la vicaria, la gente in genere dovrebbe sperimentare quella che è la misericordia di Dio. Se Dio possiamo dargli un nome sicuramente non è misericordioso perché Dio è tenero, Dio vuole che noi esprimiamo questa misericordia sua, incontrando chi? Incontrando Cristo. Io penso che cosa dobbiamo fare quest'anno perché veramente diventa un anno per tutto il circondario e per i fedeli che frequentano il nostro santuario. Io penso che sono tre le chiavi di volta che ci fanno sperimentare la misericordia di Dio. La prima è sicuramente essere uomo in uscita, come dice proprio Francesco nel senso che bisogna essere uomo in uscita. Io penso che, dicevo poco fa, le chiavi proprio per sperimentare questa misericordia di Dio sono tre. La prima è condividere. Volevo proprio citare questo proposito a quello che diceva il Ghezio nel Fausto, mettendo proprio in bocca a Mephi Stefano. Che cos'è l'uomo? Dice l'uomo è un altro che, diciamo così, è un piccolo monto di follia. Attraverso la condivisione dobbiamo essere piccolo monto non di follia ma di amore, di umanesimo verso gli altri. Il secondo termine è molto importante perché veramente possiamo sperimentare che cosa significa misericordia di Dio in noi. E' quello di essere giusti. Cioè un monto dove non esiste il ricco e il povero, ma un monto dove il ricco condivide le cose, perché le proprie cose, condividere non tanto quello che ha, ma anche come il Vescovo ti affermava domenica scorsa, condividere se stessi. E poi ecco, facendo questo, naturalmente arriveremo al terzo, al terza chiave di volta, perché proprio quest'anno possa essere misericordia per i fedeli graffi di Santuario. Cioè essere soprattutto come? Condividere con gli altri, essere giusti, specialmente essere umili. L'umiltà è la nota che deve essere proprio caratterizzata di chi veramente vuole convertirsi al Regione Santagrata. Quest'anno giubilare posso essere un dono di grazia per il Santuario, che è rimasto integro dopo la frana di tre anni fa, raggiungibile tranquillamente da tutti i fedeli, un pezzo di strade da fare a piedi, ma scoprire la profondità della misericordia del Padre che accoglie e della Vergine Maria che ci protegge, non può che invogliarci a renderle omaggio.